Fredda quest'acqua qua! Signori, sono in un lago alle pendici del monte Katsurui, questo lago è stato creato dalle esportazioni nucleari della Gran Bretagna, unita insieme agli Stati Uniti d'America, questo lago è radioattivo, nessuno può bere l'acqua, nessuno può toccarla, se no muore, guardate, vedete? Pian piano sto morendo! Cotidio e muori, come dicevano gli antichi, è pieno, ahia cazzo, una scheggia, questo lago, si buca, è pieno di belle feroci, come le schegge, gli alberi, guardate qua, questi alberi sono inoffensivi se non attaccati, ma se qualcuno fa ad esempio così, vi faccio vedere adesso, se uno ad esempio fa così, il albero si incazza e poi gli picchia!